Eccoci, buonasera, il telegiornale partirà con tutte le notizie sulla guerra. Notizie che, come sapete, se ci avete seguito nel nostro speciale consueto del pomeriggio, notizie che ci parlano sia di nuovi bombardamenti, sia di corridoi umanitari che in realtà non hanno funzionato a dovere, sia di un nuovo round negoziale che si è concluso con la missione che ci sono stati solo piccoli o quasi nessun progresso, ma ci si rivedrà tra i russi e gli ucraini nei prossimi giorni, sia una riunione importante a livello di videoconferenza tra Biden, il premier britannico Boris Johnson, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron. È il fronte più avanzato, diciamo, della possibile trattativa occidentale, mentre ancora però è in piedi il tentativo negoziale israeliano. Il ministro degli esteri di Gerusalemme si è incontrato a Riga, a Lettonia, con il segretario di Stato americano. Tutti incontri che però si scontrano con una certezza ormai chiara per tutti che Vladimir Putin non ha nessuna intenzione e nessun interesse a staccare il piede dall'acceleratore di questa guerra di invasione, fino a quando appunto non avrà conquistato con i suoi soldati Kiev. È la convinzione prevalente e con essa quella della necessità delle sanzioni, di sanzioni vere. Gli Stati Uniti starebbero pensando a un blocco, a un bando del petrolio russo. Non tutti i paesi alleati sono su questa posizione e probabilmente appunto loro considerano di farlo da soli. Gli Stati Uniti se lo possono permettere per altre fonti di importazione e anche per produzione propria. Ma questa è la notizia. Ce ne sono altre ovviamente, tante altre, perché come al solito molto ruota attorno a questo, compreso appunto il discorso delle fonti energetiche. Oggi massimi per il gas, per lo stesso petrolio, ma anche per un bene rifugio come l'oro, o per il nickel, o per il palladio. E la prospettiva, di questo si parlerà con Milena Gabanelli nel Data Room, e cosa succederà col gas nel nostro prossimo autunno, stante la premessa di questa guerra. Ci sono anche i sondaggi. Questo e altro, tutto questo. 30 secondi di titolo. Restano le posizioni divergenti dopo il terzo round negoziale tra le delegazioni di Russia e Ucraina. Non c'è intesa sui corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili intrappolati per il terzo giorno consecutivo nelle città assediate dall'esercito russo. Le aspettative non sono state soddisfatte, ha detto il caponegoziatore russo, pronunciando un nuovo round, mentre da parte ucraina si parla di piccoli spiragli. Sul campo, segnale di una imminente offensiva dei tank russi a Kiev. Si combatte in alcuni soborghi, mentre la diplomazia moltiplica gli sforzi per evitare un'escalation. Vertice in videoconferenza tra Scholz, Macron, Biden, Johnson. Al centro dei colloqui, oltre a nuove sanzioni, il possibile embargo alle importazioni dalla Russia di petrolio, ma priorità anche alla protezione delle popolazioni al centro del conflitto. Il Cremlino ha varato una lista di paesi ostili. Tra questi c'è anche l'Italia, che sul piano diplomatico non ha un ruolo centrale. Oggi Draghi ha incontrato a Bruxelles Ursula von der Leyen e sui mercati schizzano in alto i prezzi delle materie prime. Gas, petrolio, nickel, palladio ai massimi. Quali conseguenze per l'Italia da eventuali tagli di forniture del gas? Ne parleremo nel Data Room con Milena Gabanelli. Eccoci, buonasera, quindi. Come abbiamo visto, la situazione resta molto difficile. È inutile negarlo. Quando si avvicina alla fine della seconda settimana di guerra, il copione resta lo stesso. Bombardamenti mirati, avanzata delle forze russe, resistenza, soprattutto attorno agli edifici principali, ai palazzi del potere, o che sono al centro di importanti infrastrutture da parte della difesa ucraina. E negoziati che sembrano soltanto avere lo scopo di comprare tempo, da una parte e dall'altra. Partiamo dal campo. Per il terzo giorno consecutivo, migliaia di persone intrappolate nelle città dell'Ucraina, assediate dai russi, per alcune ore, cullano l'illusione di poter fuggire, allontanarsi dai combattimenti. Ma per la terza volta rimangono deluse, sono costrette ad aspettare ancora spesso, senza acqua, luce e riscaldamento. Alle otto del mattino, il Ministero della Difesa russa annuncia l'apertura dei corridoi umanitari per far uscire la popolazione civile dalle sacche. Mosca spiega di venire incontro così a una richiesta precisa, avanzata dal presidente francese Macron. Cartine alla mano. I militari russi mostrano le vie che dovranno percorrere gli sfollati. Sei le direzioni e quasi tutte portano in territorio ostile, in bocca al nemico, cioè in Bielorussia e Russia. Da Kiev i profughi dovrebbero andare verso nord, fino appunto in Bielorussia, mentre dalla martoriata Mariupol il punto d'arrivo sarebbe Rostov, stessa destinazione finale, cioè la Russia per chi fugge da Kharkiv. Viste le condizioni imposte, si presentano in pochi, più sicuro evidentemente restare sotto le bombe. Kiev non ci sta, parla di sabotaggio e oltraggio ed evoca, un'operazione immorale, quella di sfruttare la sofferenza delle persone ad uso e consumo della propaganda russa. Irritato anche l'Eliseo, che sottolinea come non fossero certo questi gli accordi raggiunti ieri, mentre Mosca punta il dito contro Kiev per aver bloccato l'evacuazione dei civili. Solo in serata al termine del terzo round negoziale, la delegazione di Kiev parla di piccoli progressi sui corridoi umanitari, versione diversa da quella di Mosca, ma intanto prosegue l'offensiva principale russa, che posiziona i suoi carri armati intorno a Kiev. Si combattono alcuni sobborghi. A Makariv una granata avrebbe colpito un panificio industriale, uccidendo almeno 13 operai. Qui invece siamo a Irpin, una trentina di chilometri a nord-ovest dalla capitale. La gente fugge dai quartieri già occupati dai russi, ma si espone al fuoco dei cecchini. «Perché nessuno ci aiuta? Dove sono gli aerei?» urla questa donna. E il presidente ucraino anche oggi è tornato a chiedere maggiore sostegno all'Occidente. «Quanti morti vi servono per mettere in sicurezza i nostri cieli?» chiede polemicamente Zelensky, che invoca nuove sanzioni contro la Russia. Prima di andare ai aspetti diplomatici, alle trattative in corso e anche al ruolo dell'Italia, vediamo la corrispondenza dal campo, da Kharkiv, dal sottosuolo di Kharkiv, della nostra Francesca Mannocchi, che da stasera peraltro ha raggiunto Kiev e domani ci raccontrà la capitale. «Si contano ancora i danni dei bombardamenti degli ultimi giorni a Kharkiv. Questo è il quartiere di Nord-Saltivka. È stato colpito pesantemente due giorni fa. Si vedono i segni dei colpi di artiglieria sui palazzi, alti fino a 15 piani in quest'area residenziale. Case distrutte, almeno dieci le vittime tra i civili secondo le autorità locali. Tatiana e suo marito stanno uscendo da lì, da uno dei palazzi danneggiati. «Hanno tremato le pareti di casa tutta la notte. Abbiamo vissuto giorni di terrore, notti di terrore. Non dimenticheremo mai la paura di morire», dice la donna. «Guardate cosa hanno fatto alle nostre case e guardate cosa stanno facendo alle nostre vite. Questa busta è l'unica cosa che portiamo via da casa. Non abbiamo nient'altro. Questa guerra ci sta togliendo tutto». Poi se ne va a piedi Tatiana, con suo marito accanto, sperando di raggiungere la stazione del treno prima che ricomincino i bombardamenti e sperando di raggiungere la figlia, che è già in salvo, a Leopoli. Alexei dopo poco esce dal suo rifugio, ci invita ad entrare. Scendiamo con lui nello scantinato che oggi usa con la sua famiglia per proteggersi dalle esplosioni. Suo padre ha più di 70 anni, ci viene incontro dicendo «Non pensavo di morire così». Non esce da giorni, come gli altri tre anziani chiusi nella stanza. Le donne, stese sui materassi, piangono. La madre di Alexei non vuole uscire, è traumatizzata, non vuole vedere i danni di casa sua. «Stiamo finendo il cibo, stiamo finendo l'acqua», dice piangendo. «Non ne possiamo più, vogliamo solo vivere in pace». Una città deserta, Kharkiv, fatta di gente che è fuggita o cerca di fuggire e di esistenze costrette a una vita sotterranea. Nei rifugi antiaerei o nelle stazioni delle metropolitane, come questa, dove uomini, donne e bambini vivono da dieci giorni cercando di trovare riparo dalle bombe. Proseguono tutte le attività diplomatiche, anche con il ruolo degli stessi protagonisti. non passa giorno senza che Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, non si rivolga in un videomessaggio, in un discorso al Paese o all'opinione pubblica internazionale. Peraltro è di poco fa la notizia che domani pomeriggio alle 18 Zelensky parlerà in diretta alla Camera dei Comuni britannica. Interverrà ovviamente in videoconferenza durante la seduta della Camera dei Comuni, come ha annunciato questa sera lo speaker della Camera stessa, il presidente della Camera dei Comuni stessa. e seguiremo questo come sempre nel pomeriggio di domani dalle 17 in poi la nostra diretta, il nostro speciale, seguiremo anche quel discorso di Zelensky. Ma vi devo dire che oggi è stato il giorno anche di tante altre cose. Vediamo subito. Un faccia a faccia ha cominciato all'Una italiana, quello di Brest, tra le due delegazioni, quella russa e quella ucraina, alla ricerca di un cammino condiviso per fermare le ostilità, anche se i rispettivi punti di partenza non possono essere più distanti. Il capo negoziatore di Zelensky, il ministro della difesa Reznikov, ha ribadito che Kiev chiede l'immediato cessato il fuoco e il ritiro delle truppe russe, mentre Mosca da giorni ripete che esiste solo una possibilità di fermare l'attacco, garantire un'Ucraina smilitarizzata, neutrale e denazificata, che tradotto significa con un governo filorusso, insieme al riconoscimento della Crimea, già conquistata, e dell'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, che già hanno chiesto l'annessione alla Russia. Al termine, però, si parla di piccolissimi passi avanti, in tema soprattutto di corridoi umanitari, anche se spiega il negoziatore ucraino Podolia che non ci sono ancora regole condivise, mentre i russi parlano di aspettative non soddisfatte, ma di negoziati che continueranno. Oltre ai colloqui diretti, il resto del mondo si mobilita per provare a tirare le somme ed a coordinare gli sforzi diplomatici degli ultimi giorni. Lo fanno per primi in una videoconferenza i quattro leader del fronte occidentale, Biden, Macron, Scholz e Johnson. L'Italia non è invitata. Gli anglosassoni puntano più di altre ad inasprire le sanzioni con l'embargo se non di tutte le esportazioni energetiche russe, almeno del petrolio. L'America, da giorni, ha inviato ai confini della Nato il ministro degli esteri Blinken per fare sentire il suo massimo appoggio. Oggi la tappa finale nelle Repubbliche Baltiche da riga Blinken annuncia in una conferenza stampa con il ministro degli esteri lituano che ulteriori 400 soldati della prima brigata corazzata arriveranno proprio in Lituania. Inoltre, si valuta l'invio di una serie di sistemi di difesa missilistica. Blinken a riga ha incontrato anche il ministro degli esteri israeliano, Lapid, con il chiaro obiettivo di controllare e rendere omogenei tutti gli sforzi diplomatici verso Mosca dopo l'improvviso viaggio del premier Naftali Bennett in pieno shabbat. In un breve scambio di battute iniziali, Lapid ha tranquillizzato gli Stati Uniti sulla natura della mediazione israeliana, paese che, pur condannando l'invasione ucraina, non partecipa alle sanzioni. E Blinken ha ringraziato Gerusalemme per lo sforzo compiuto. Altri due leader nei giorni scorsi si sono fatti avanti come possibili mediatori. Il primo, il presidente turco Erdogan, e il suo interessamento potrebbe portare giovedì prossimo al forum diplomatico di Antalya, programmato da tempo, ad un incontro tra il ministro degli esteri russo e ucraino, Lavrov e Kuleba, che hanno già confermato la loro presenza. Nei giorni scorsi, in diverse occasioni, poi l'Occidente ha chiesto un intervento della Cina sull'alleato russo. Xi Jinping oggi ha confermato di essere disposto a svolgere un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo. Il suo ministro degli esteri, Wang Xi, però, ha sottolineato che l'amicizia di Pechino con Mosca è solida come una roccia e che se l'Europa vuole la pace, allora deve invitare Mosca ad un negoziato paritario che tenga conto delle preoccupazioni del Cremlino per la sicurezza russa. E il ruolo dell'Italia, ovviamente, non ha fatto piacere l'assenza comunque del nostro paese e di altri e della stessa Unione Europea come entità rappresentativa di 27 nella videoconferenza tra Biden, Boris Johnson, Macron e Scholz. Ma oggi Draghi era da Ursula von der Leyen e dagli ambienti vicini al governo si fa notare che sono tante le occasioni di confronto anche bilaterale e non è certo da uno di questi che si valuta il peso internazionale e c'è anche qualcos'altro. Vediamo. Mario Draghi oggi a Bruxelles per un incontro con Ursula von der Leyen usa toni molto preoccupati sulla guerra in Ucraina. Finora, dice, la diplomazia non ha dato alcun frutto. Finora la determinazione russa è chiarissima andare avanti e procedere finché il paese non si sia reso probabilmente instaurare un governo amico. La crisi sarà lunga le sue conseguenze pesantissime. Ne hanno parlato oggi in videoconferenza il presidente americano Biden con Johnson, Macron e Scholz riunione che ha visto esclusa l'Italia che sembra avere un ruolo secondario anche se Roma minimizza. Stasera Draghi sentirà Scholz. A Bruxelles il presidente del Consiglio elogia quella che definisce la straordinaria risposta dell'Europa unita nel condannare l'invasione russa nell'imporre sanzioni nell'offrire ogni aiuto al presidente Zelensky finanziario umanitario e anche militare unità anche con gli alleati Nato e del G7 che secondo il Premier è la nostra più grande forza. ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi che sono stati prontamente eseguiti e continueranno a essere eseguiti nei prossimi giorni. Vorrei veramente vedere misure analoghe simili prese da tutti i nostri paesi. Passa all'inglese Draghi per chiedere compattezza a tutti sul congelamento dei beni degli oligarchi. spiega poi ci sono paesi che si muovono rapidamente con risultati sostanziali come Francia, Germania e Italia e altri paesi che lo fanno meno. Polemica si capisce da Palazzo Chigi con il Regno Unito di Boris Johnson accusato di essere troppo tiepido su questo fronte. Proprio Londra che accusava l'Italia di frenare per esempio sull'esclusione di Mosca dallo SWIFT degli scambi finanziari internazionali. Altro grande dossier affrontato da Draghi con von der Leyen quello dell'energia la necessità cruciale per il nostro paese più che per altri di allentare la dipendenza dal gas russo. Si parla a medio termine di diversificazione delle fonti energetiche e di impulso alle rinnovabili ma anche fin da subito serve l'aiuto europeo ai paesi più colpiti come l'Italia dalla crisi energetica. Roma sarebbe pronta a varare altre sanzioni come lo stop al petrolio russo ipotizzato dagli USA il tema di nuove misure contro Mosca sarà affrontato nel Consiglio europeo di Versailles giovedì e venerdì nell'incontro a Draghi von der Leyen infine l'emergenza profughi storica definisce Draghi la decisione europea sulla protezione temporanea degli sfollati l'Italia ha fatto e farà la sua parte offrendo accoglienza e aiuti torna anche il tema della richiesta ucraina di adesione alla UE ribadita ieri da Zelensky a Draghi che però frena. Il processo è lungo l'entrata nell'Unione europea è sempre preceduta da una ristrutturazione da una come dire da profonde riforme strutturali però in ogni caso noi li sosteniamo ecco non c'è nessuna come dire nessuna prevenzione nessuna obiezione di principio E fra l'altro il processo di accettazione delle candidature non solo dell'Ucraina ma anche della Moldavia e della Georgia è stato annunciato oggi da parte dell'Unione europea e vediamo però adesso un altro aspetto quello che riguarda le materie prime perché questo è un effetto collaterale si parla tanto tantissimo del prezzo del gas se ne parlava già prima della guerra dell'Ucraina del prezzo del petrolio che è cresciuto fino al dettaglio lo sapete a 2 euro anche nei self service prezzi che non si raggiungevano non si sono mai raggiunti di fatto e la paura è che tutto questo sia sempre più incidente e soprattutto che tocchi direttamente ancora di più le famiglie italiane senza che ci sia la possibilità di rincorrere questi aumenti di prezzi con operazioni come quelle che sono state fatte dal governo fino a oggi vediamo sfonda la soglia dei 300 euro per megawattora oggi il gas mentre il petrolio raggiunge il picco dei 130 dollari al barile con prezzi che da giorni raggiungono livelli mai toccati da crisi epocali come il blocco di Suez o l'11 settembre e inducono l'Unione Europea a rivedere e con urgenza le strategie di approvvigionamento stoccaggio e forse si mormora nei corridoi di Bruxelles lo stesso concetto di transizione energetica ma anche altre materie prime come il carbone di cui la Russia ne esporta il 15% del consumo mondiale risentono dell'invasione in Ucraina commodities si dice in finanza tutto ciò che serve a bruciare trasformare produrre meglio serraro come ad esempio il nickel salito del 76% a 51.000 dollari a tonnellata metallo di cui la Russia è grande esportatore assieme all'alluminio e al palladio altro elemento carissimo usato in elettronica odontoiatria e gioielleria in queste ore l'Unione Europea scopre di essere legata a doppio filo all'Ucraina e alla Russia anche e soprattutto sul settore dell'alimentazione umana e zootecnica per farla breve il grano per la farina da panificazione e il frumento per dare da mangiare agli animali il primo impatto è ovviamente sui prezzi ma in mancanza di valide alternative logistiche il secondo tempo potrebbe giocarsi sul terreno dell'approvvigionamento col diretti ha calcolato che l'Italia ha importato dall'Ucraina 570 milioni di euro di prodotti agroalimentari lo scorso anno di cui il solo olio di girasole vale 260 milioni di euro entre il mais per l'alimentazione animale vale 140 milioni e il grano tenero per la panificazione 30 milioni secondo quanto dichiarato dal ministro dell'agricoltura spagnolo Luis Planas l'unione europea sta prendendo in considerazione la possibilità di sospendere temporaneamente il divieto di importare frumento geneticamente modificato dagli Stati Uniti e dall'America del Sud per aiutare gli agricoltori europei a far fronte alla carenza di grano e mangimi causata dalla guerra in Ucraina per la precisione dovuta dall'interruzione della catena di approvvigionamento essendo il mar nero via principale per questo tipo di prodotti bloccato da navi da guerra russa che stanno bombardando i principali porti ucraini Spagna e Francia hanno proposto anche di chiudere un occhio per quei carichi di frumento trovati con minime tracce di erbicidi carichi che in situazioni normali verrebbero bloccati dalle autorità doganali ma che oggi si rivelano preziosi per costituire delle scorte d'emergenza specialmente il mais fondamentale come mangime per animali per dire il vero il palladio è importante soprattutto perché come si sa sta nelle marmite sta in vari tipi di automobili nei sistemi proprio dei vari tipi di auto ed è per questo che è diventato preziosissimo forse più prezioso dei metalli ma questa materia questa materia energetica rischia di essere lo spettro in occidente e anche e soprattutto in Italia cosa accadrà col gas nel prossimo autunno Data Room Gabanelli il gas russo arriva in Europa attraverso l'Ucraina la Bielorussia il Mar Baltico il Mar Nero e le navi metaniere all'incirca sono 150 miliardi di metri cubi l'anno ai prezzi attuali sono 100 miliardi di euro chi ne importa di più è la Germania il 51% del suo consumo seconda l'Italia con il 43% se Mosca dovesse decidere dall'oggi al domani di chiudere le forniture avremmo un'autonomia di 10-12 settimane nel mentre si sta trattando con il Qatar gli Stati Uniti Nigeria Algeria per incrementare l'afflusso ai rigassificatori nei terminali europei ma non potranno darci più di 10 miliardi di metri cubi l'anno primo perché sono già legati dai contratti di lunga durata con altri paesi soprattutto quelli asiatici secondo le infrastrutture in Europa per metterci il gas liquefatto sono poche la Francia ha sempre puntato sul nucleare solo la Spagna ne ha 8 la Germania non ne ha nessuno l'Italia ne ha 3 si sta potenziando quello che arriva dai gasdotti della Norvegia dell'Algeria della Libia che peraltro è instabile e dall'Azerbaijan ma non potrà essere tanta roba in tempi brevi e la Norvegia che è il secondo fornitore europeo lo ha già detto chiaro e tondo la produzione per crescere ha bisogno di tempi più lunghi soluzioni più immediate la Germania sta considerando di riaprire le tre centrali nucleari chiuse l'anno scorso e prolungare la vita alle altre tre che dovrebbero essere fermate a fine 2022 perché rimpiazzarle con impianti rinnovabili è troppo costoso e comunque non gli basterà l'Italia invece come pensa di sostituire i 29 miliardi di metri cubi all'anno di gas russo aumento della produzione nazionale da 3,8 a 5 miliardi di metri cubi l'anno tre nuovi rigassificatori potenziamento dei gasdotti esistenti accelerazione delle rinnovabili per arrivare auspicabilmente ad essere indipendenti dalla Russia nell'autunno 2023 e intanto aumento degli stoccaggi riapertura della centrale a carbone di La Spezia chiusa a dicembre e dei reparti dismessi degli impianti di fusina e brindisi contropartita 30 milioni di tonnellate di CO2 in più poi se in autunno le forniture mancano con i prezzi alle stelle a chiudere saranno le imprese intanto il pianeta indifferente a quello che avviene qua giù continuerà a scaldarsi Allora Milena se davvero succederà quello che si teme oggi con le notizie di oggi è tutt'altro che impossibile cioè che la Russia ci chiude il rubinetto del gas quanto gas ci manca si può quantificare Allora ovviamente sono sempre calcoli un po' tatti con il collega Stefano Agnoli di Corriere Economia e verificati con il ministro Cingolani si riuscirà per l'autunno ad avere una copertura per 15 miliardi di metri cubi ne mancheranno 14 quindi 14 non sono poca roba certo su questo se si innesca la cultura del risparmio individuale senza neanche fare tanti sacrifici si potrebbe anche arrivare a 10 però 10 non sono poca roba certo e questo per le ragioni che abbiamo visto a cui bisogna aggiungere insomma 20 anni di politica energetica in Italia mai fatta con qualche colpa anche di noi giornalisti io personalmente so di aver combattuto mia colpa quando stavano costruendo e allargando il rigassificatore di Brindisi per esempio quindi su questo faccio mia colpa ma ci sono state tante partecipazioni in questo non sviluppo di diversificazione e nel non sviluppo anche delle energie rinnovabili perché nessuno vuole l'infrastruttura sul suo territorio poi abbiamo succede questo allora però Milena apprezzabile ovviamente l'autocritica visto che siamo ancora in zona in cui non è obbligatoria vediamo come va a finire la guerra per ora siamo ancora in territorio in cui l'autocritica è libera ma quello che ti voglio chiedere è un'altra cosa si parla di extrema razio del carbone no? neanche tanto extrema razio ma le clausole ecologiche che abbiamo ampiamente messo una sopra l'altra a prezzo di conquiste difficili eccetera dove vanno a finire? è questo il tema c'è la tragedia russo-ucraina sembra far passare in secondo piano tutto questo perché si torna a parlare di carbone ora se tu devi tenere le persone al freddo si tornerà a parlare di carbone ahimè è per questo che dico diamoci tutto tutti da fare per non sprecare nulla e conservare e risparmiare il più possibile questo è io penso veramente un insulto al piano di transizione ecologica perché la frenerà con l'aumento delle materie prime come abbiamo visto e ci torneremo su questo però c'è questo problema si torna a parlare di carbone ahimè e anche di austerity tu sei eri bambina io un po' più grande però abbiamo vissuto un'altra stagione negli anni 70 dopo lo shock dopo la guerra del Kipur di austerity cioè di richiesta ai singoli cittadini alle entità alle comunità alle imprese di economizzare il più possibile col consumo energetico però si può cioè io mi ricordo insomma ero adolescente non tanto bambina e non ne sono uscita traumatizzata neanch'io neanch'io da quel periodo che fu piuttosto lungo cioè io me lo ricordo come molto cupo però si è affrontato e se ne può uscire si facevano le domeniche a piedi senza pretesa ecologica erano le domeniche a piedi per non usare le macchine per risparmiare sulla benzina per intenderci lo dico ai più giovani e poi si è andati avanti un anno un anno a targhe alterne tra l'altro esatto va bene Milena ho l'impressione che ci rivedremo presto sempre con materie che ruotano attorno a questo evento bellico attorno al tema terribile grazie intanto restiamo però in tema per vedere il risultato del nostro sondaggio abbiamo chiesto a SVG di porre due domande che riguardano proprio la guerra vediamo insieme forse eccole qua l'esercito europeo lei sarebbe molto abbastanza poco o per niente d'accordo con la creazione di un unico esercito europeo guardate qui 57% molto o abbastanza d'accordo di cui molto il 20% abbastanza il 37% è un aumento dell'11% rispetto alla stessa domanda fatta tre anni fa alle risposte alla stessa domanda fatta tre anni fa poco per niente d'accordo 27% non saprei 16% l'altro quesito che stiamo per vedere le trattative dell'unione europea con la russia secondo lei nelle eventuali trattative con la russia sarebbe preferibile che l'unione europea agisse in modo unitario in rappresentanza di tutti gli stati membri il 65% praticamente due su tre rispondono così come vedete sono anche ripartiti a seconda delle opzioni politiche 90% di elettori del partito democratico il 70% 5 stelle il 57% della lega e anche il 52% quindi la maggioranza per tutte le fasce di elettori dal punto di vista delle opzioni partitiche e solo un 16% di ciascuno stato dell'unione agisse indipendentemente ma confrontando sugli altri stati e 8% che ciascuno sarebbe preferibile che ciascuno stato dell'unione agisse per proprio conto in base ai propri obiettivi andiamo a vedere adesso come andrebbe la fatidica domanda che da anni ogni lunedì poniamo e di cui vediamo le risposte se si votasse oggi ancora una volta in la prima forza politica fratelli d'italia che guadagnano 0,2% 21,5 il partito democratico 21,2 più 0,1% la lega 17 meno 0,2 movimento 5 stelle 12,6 meno 0,4 forza italia 8,1 più 0,5 azione più europa 4,8% meno 0,2 poi mdp articolo 1 2,4 più 0,2 italia viva 2,3 meno 0,4 verdi 2,2 meno 0,3 invariata sinistra italiana 2,1 italexit 2,0% più 0,3 altre liste 3,8 non parliamo solo teniamo un'ultima notizia che non riguarda tutta questa immane tragedia la vicenda della guerra oggi una decisione a sorpresa una sentenza a sorpresa ancora sul tema del famoso processo Eni Amara e tutte le discussioni e i casi attorno alla procura di Milano il tribunale di Brescia fissa il primo tassello giudiziario sulla vicenda dei verbali secretati di Piero Amara stamattina il giudice dell'udienza preliminare ha assolto perché il fatto non costituisce reato il PM milanese Paolo Storari imputato per rivelazione del segreto d'ufficio in concorso con Pier Camillo Davigo per avergli consegnato nell'aprile 2020 nella casa di Davigo quando era consigliere esterno del CSM quei verbali in cui l'avvocato esterno di Eni parlava della presunta loggia ungheria capace di pilotare le nomine in magistratura l'ex magistrato di Mani Pulite ha scelto il rito ordinario il processo inizierà il 20 aprile Storari invece aveva scelto l'abbreviato spero che questa decisione ponga fine a questo calvario a cui questa persona è stata sottoposta per aver fatto dal suo punto di vista e dalla ragionevole prospettiva che aveva il proprio dovere la procura di Brescia aveva chiesto il minimo della pena prevista per questo reato sei mesi imputando a Storari di non aver informato i suoi capi della consegna di quei verbali e di non essersi attenuto alle vie formali protocollare tutto al CSM quei verbali poi e storia nota furono mostrati da Davigo a diversi membri dell'organo per poi essere mandati appena l'ex magistrato andò in pensione informano Paolo Storari si è sempre difeso sostenendo di aver agito per tutelarsi dei suoi capi che a suo dire ritardavano le iscrizioni nel registro degli indagati alla luce delle pesantissime affermazioni di Amara la sentenza di assoluzione ora potrebbe cambiare le sorti del PM sul quale pende anche una procedura per incompatibilità ambientale da parte del CSM e il procedimento disciplinare della procura generale della Cassazione la consegna di quei verbali creò forti dissapori in procura a Milano tra il PM e l'ex procuratore capo Francesco Greco con gli aggiunti Pedio e De Pasquale durante le ultime fasi del processo in Nigeria in cui De Pasquale era la pubblica accusa i protagonisti di quello scontro sono poi tutti finiti sotto inchiesta a Brescia dove è stata archiviata solo la posizione di Greco oggi l'assoluzione di Storari che ha lasciato il tribunale visibilmente commosso grazie no a posto così dopo di noi a 8 e mezzo Lily Gruber ospita Lucio Caracciolo Maria Cuffaro Beppe Severnini Sergei Stakovski da Kiev Alona Cliojeva da Leopoli e generale Fabio Mini ci fermiamo come detto oggi è stata una giornata pesante sui mercati azionari per la verità sull'ottovolante Milano è aperto con un meno 6% per poi risalire oltre la parità guadagnare l'1% e poi scendere con le notizie che arrivano da Wall Street la chiusura come vedete a Piazza Affari è stata con un meno 1,36% in questo momento in linea con questo c'è anche Wall Street Dow Jones meno 1,88% Nasdaq meno 2,63% è tutto Gruber ci vediamo domani sera buonasera buonasera